C'è anche una cassetta gratuita What? What? Sapete perché adoro le feste che ci sono durante l'anno? Perché Brawl Stars tira fuori sempre delle casse speciali con delle offerte incredibili Ciao Ciamila Nisanzala, grazie mille per esserti abbonato al canale Un bacione da Mattiz È arrivato il momento di aprire qualche cassa speciale Benvenuti in un nuovissimo video di Brawl Stars Il vostro MZN Abbo Mattiz è qui con i suoi 8736 trofei E' il mitico carissimo amichetto Mr.P che abbiamo sbloccato nello scorso video Da come ci siamo resi conto con l'ultimo aggiornamento Brawl Stars ha ancora una volta modificato il colore del suo sfondo Ormai fa queste cose ogni volta che c'è una festa Se notate bene, sullo sfondo c'è un topo Cioè ci sono tanti topini, tante facce di topini Non vorrei dirvi una cavolata ma credo che sia il motivo abbastanza semplice Il capodanno cinese, benvenuti nella lezione del professor Mattiz Sì, diciamo che no, vi dico solo una cosa eh Lasciamo stare la scuola dai video di Brawl Stars Quest'anno il capodanno cinese dovrebbe essere associato all'animale topo Quindi l'anno del topo Non ho capito bene come funziona ma ogni anno il capodanno cinese Ha come rappresentante un animale diverso Non sono entrato nei dettagli e non entrerò nei dettagli Ma questo credo sia la risposta allo sfondo che c'è Non menatemi se la risposta è un'altra In realtà i topi sono messi solo perché sono carini Anzi scrivetelo nei commenti Ma noi che ci frega c'è io sto parlando da due minuti di sto cavolo di sfondo dei topi Andiamo nel negozio che quella è la cosa importante Guardate che offerta ha tirato fuori Brawl Stars Mischia lunare 500 gemme 3600 monete 5 mega casse Che finalmente potranno farci trovare Sandy Sarà Sandy il mio capodanno cinese? Lo scopriremo durante il video Intanto però vi chiedo subito un bel mi piace per portarmi fortuna durante questo capodanno cinese E farmi trovare Sandy Aspetto tutti quanti il vostro like So che ci vuole un po' perché dovete scorrere verso il basso E cliccare il tasto 3, 2, 1 Grazie mille Allora possiamo continuare e purtroppo no Non sarà oggi il giorno in cui aprirò le 15 casse enorme Le 102 cassette piccole No 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 non ci siamo per niente So solo che però ci dobbiamo meritare questa Questa cassa speciale del capodanno cinese Quindi che cosa facciamo? Prendiamo il nostro Mr. P livello 1 E torniamo in dominio Perché se vinciamo questa partita Andrò ad aprire la cassa in diretta con voi Se la perdo beh spero di non perderla Perché non ho pensato a una penitenza da fare in realtà Oh doppietta di pinguini raga Non creiamoci nemmeno il problema Non perderemo mai Fidatevi di me Fidatevi di me Allora pronti con il Mr. P Osservate bene questa partita Perché questi doppi Mr. P Non capiteranno più molto facilmente tra qualche giorno Dato che molte persone saliranno di grado E quindi queste combinazioni non ci saranno più Devo tenere per forza il cerchio a destra Perché sono da solo Gli altri sono tutti andati a sinistra Ci buttiamo la bellissima torretta Spara pinguini Sì sì Adoro questa torretta I pinguini sono troppo teneri Guardate come vanno ad attaccare Yeah yeah Ma bravissimo Il mio mini pinguino ha quasi ucciso Brock No non me ne devo andare Non me ne posso andare da qui Cioè guardate Stanno tutti a combattere lì E io sono l'unico a tenere sta posizione Ma questa è la partita più noiosa della storia Dai Però per vincere questo ed altro La cassa del capodanno cinese deve essere mia Sono sicuro che mi porterà qualche nuova abilità stellare Come minimo eh Allora il mi... Guardate la doppia spara pinguini qui in basso E' assurdo Ci sono tutti i super pinguinetti che partono Aspetta ma se ne è rotta una Adesso però non so se è la mia o quella del... Ah no Era quella dell'alleato che l'ha sparata da un'altra parte Ehi Che cavolo vuoi da me Bull Vattene via prima che sia troppo tardi Vai via Eh oh Troppo tardi Io ti ho avvisato eh Ecco non ve lo vorrei dire in questo modo Ma siamo 27 a 1 Ritengo abbastanza difficile Perdere Cioè se perdiamo così Boh Io ho quitto Non gioco più con sto account eh Ci sono pure i doppi punti Quella... Quella zona del dominio è completamente contesa A sinistra Ma poi c'è la destra C'è la destra di Mattiz Che guardate come ce la stiamo tenendo dall'inizio del gioco Ah tra l'altro scusate ancora Se ho una voce un pochino strana Un po' tipo Ciao a tutti ragazzi Ma ho la febbre E sono iper raffreddato E per iper intendo Circa una media di Un pacchetto di falzoletti All'ora consumato Ok Intanto 3, 2, 1 Regà 61 Ma non me ne ero accorto Cosa? Ok ok Non è che me merito una cassa Del capodanno cinese Me ne merito 10 Ovviamente tutta sta cosa Di Mr. P super potente È falsata Per quale motivo? Perché insieme a me vedete C'è tutta gente con 0 trofei 8 trofei 16 trofei Che poverini avranno iniziato a giocare adesso Però che ci posso fare? Dovrò farlo salire di grado anch'io no? Prima di aprire la cassa speciale Voglio fare un saluto A tutti i membri del club MZ Premium Di cui fanno parte Gli abbonati epici Leggendari Del canale Mattiz ovviamente Di qual'altro canale Se no In descrizione trovate il link Per abbonarvi Al momento siamo 100 su 100 Ma in media esce Una persona al giorno E ci sono tutte queste persone Guardate Le tolgo in questo momento Perché ci hanno L'accesso a un mese fa Noi vogliamo solo gente attiva Quindi Non voglio fare il cattivo Ma le persone che giocano Da un mese Non sono molto attive Quindi ecco Vabbè Magari continuo dopo Mischia lunare Portami fortuna Acquisto effettuato Correttamente Ce l'abbiamo Attendiamo il caricamento Di sta stellina Perché ci mette così tanto Non lo so Probabilmente Interferenze dalla Cina No sapete Capodanno Vabbè Non faccio ridere Aprimi sta cassa Però Regà Ti è impallato il gioco Durante L'apertura Dell'offerta Se Fortnite Mi ha fregato 21 euro e 99 Si so che ho detto Fortnite Purtroppo li confondo All'infinito Volevo dire Se Brawl Stars Mi ha appena fregato 21 euro e 99 Io ci rimango molto male Ci rimango davvero Perché non me la apre Oh mio dio Sto provando a riaprire Brawl Stars Ragazzi Non mi Non mi Non mi apre Ehi Ehi Ancora Ma perché Che cosa ho fatto di male Oh mio dio Se mi hanno fregato 21 euro in questo modo Ci rimango male Ovviamente sarà questione Di caricamento Scherzo State tranquilli Però dai Non aspetto altro Sta iniziando a passare Davvero troppo Io mi faccio un'altra partita In questo momento Con il mio amichetto Mr.P E voglio che Appena la finisco Quella cassa Deve essere mia Vi giuro che ci rimango male Dopo Dopo l'apertura della cassa Avrei fatto un'altra partita A sto punto La partita ce la facciamo ora Con il nostro amichetto Mr.P Ovviamente voglio impararlo A utilizzare alla perfezione Quindi non vedo Altri brawler da usare Partiamo così Siamo in modalità rapina Non abbiamo nulla Di cui avere paura E dobbiamo uccidere tutti E spaccare la cassa Molto semplice no Pronti con la torretta Pinguino Da buttare Tipo qui Facciamo che la butto In questo modo Tanto alla fine Il mio pinguinetto Mi segue Guardatelo Che carino Vai pinguine Ma il pinguinetto Spara la torre Alla cassa No vabbè Alla cassa Spara la cassa La stiamo devastando Ma che cos'è Dai Il mio pinguinetto Sto facendo fuori La cassa Che cosa No sono morto E vabbè E vabbè E vabbè Il mio pinguinetto È appena Però è durato tanto Dai subito un altro Bravissimo Parti Niente I pinguinetti Sono la mia cosa preferita Non c'è altrimenti Ve lo giuro Non c'è alternativa Tranne che Ho appena Fatto fuori la cassa 3 2 1 Ultimo colpo E ciao ciao Sì Effettivamente Queste partite Sono di una qualità Oscena Ma devo far salire Di grado Un bel pochino Mister P Per trovare delle partite Interessanti Andiamo a vedere Se ci fa aprire la cassa Ancora no No regà No regà Ma mi state prendendo in giro Non mi apre più la cassa Intanto monetine per me Cioè La consolazione è questa Spiegatemi Io non posso più Ma perché Cioè scusate Per curiosità Se io shoppassi St'offerta speciale No mi fa Me la fa aprire subito Cioè mi si è buggato Mi si è davvero buggato L'account Io provo A uscire Non dall'applicazione Ma provo a uscire Totalmente Da Dal mio account Attraverso Come si chiama Attraverso Supercell ID Ok sono uscito Provo a fare di nuovo Il login Vediamo se è successo qualcosa Nel mio account Tipo No 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 regà 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 Sta cosa non è normale Sta cosa non è normale Proviamo a recuperare In questo modo Per capire che cosa sta succedendo Al mio cellulare Anche se non capisco bene Di chi sia il problema Se è del cellulare Del gioco Della connessione Non ne ho idea Perché Scusate Se le altre cose Me le fa aprire Perché quella no Comunque Sono nel mio Secondo account MZ Eugenio E invece qui abbiamo uno Ma io non l'ho shoppata Vabbè c'è una cassa Io non l'ho shoppata quella Perché me la carica all'infinito C'è anche una cassetta gratuita What What Cosa Che cosa No 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 Aspettate un attimo Che cosa vi state dicendo Ma io non dovevo trovare Un nuovo brawler In questo account Dovevo trovare Sandy Nell'altro Regà Fermi Tutti Abbiamo trovato Maxine Ma state scherzando Maxine anche nel mio Secondo account Senza shopparla In una cassetta Gratuita e regalo Che poi tra l'altro Adesso io vi devo svelare Una cosa Molti di voi se lo ricorderanno Ma io O forse non so Se se lo ricorderanno Perché non so Se stavo registrando Io in ste offerte Con le cassette Gratuite Ci ho trovato diversi Brawler Nel mio primo account Quindi non dimenticate Mai di aprire Le cassette Offerte di oggi Perché potrebbero Appunto farvi trovare Novi brawler Proprio come me Ma sapete che vi dico Chissere frega Di ste casse Del capodanno lunare A noi non ce ne frega niente Abbiamo trovato Maxine E a questo punto La leggenda di Mattiz Che trova tutti i brawler Nelle casse gratuite Continua Let's go Non me ne frega più niente Guarda Dopo che ho trovato Dopo che ho trovato Maxine Proprio Ciao a tutti E adesso anche Mezzetta Eugenius Avrà La sua Rivincita Avrà il suo riscatto Non lo Aprivo da un mese L'ho riaperto E alla prima cassa Ho trovato un Brawler Potrebbe essere una coincidenza Non lo so eh Non è che magari Brawl Stars Vede che questo account È inutilizzato da un po' E quindi per farmi tornare la voglia Mi sta facendo trovare qualcuno di nuovo Non lo so So solo che a me va bene così Davvero va bene così Mi stavo Ci ero rimasto malissimo Quasi quasi mi mettevo a piangere Per aver dedicato Questo video appunto Al capodanno lunare E poi Tac Perdere tutto Ma abbiamo Maxine È incredibile Tutto quello che sta succedendo In sto video Ha dell'incredibile Ci sono topi Nello sfondo Non ci hanno fatto Shoppare un'offerta Anche se i soldi Me li hanno levati Dalla carta eh Non sto scherzando Quindi Primo o poi me la faranno aprire Probabilmente Staranno avendo dei problemi Ora noi ci apriamo questo Perché se becco l'altro brawler Non lo so Che cosa succede 5 gemme Altra cassetta Colt rosa Altra cassetta Il primo rosa E altra cassetta Carl Maxine E cassa enorme Ok Ok Non è ok 3 gemme Prima di salutarvi però Voglio andare a vedere Se magari adesso Me l'ha fatta aprire Quella cassa Attenzione ci sono Eccomi No No Questa è una presa in giro Bella e buona Questa è una presa in giro Bella e buona Non sono riuscito ad aprire La cassa del capodanno Cinese Anche se ho shoppato Ho cambiato account Ho aperto una cassa gratuita E ho trovato Un nuovo brawler Io con questo vi saluto Non ho nient'altro da dire Tranne che Dovete lasciare un like Per questo video Strano